Ciao! Ed eccoci qui con il tanto atteso video sui miei regali, sui miei regali del compleanno. Che cosa ho ricevuto al compleanno? Lo so che ogni anno in tantissime me lo chiedete e io sono felicissima di farvi vedere tutto. Tutto tutto perché proprio in questi giorni sono andata a ritirare il mio regalo di compleanno di Mr. G. Niente, sono troppo felice! Chi mi segue su Instagram l'ha già visto, anzi seguitemi su Instagram gabriellagrechi underscore, vi raccomando perché lì ci sono tantissime cose, vedete tantissime cose, tantissime novità, tantissime sorprese, c'è tutto, c'è tutto! Comunque, presto che tardi, non vorrei che il video diventasse lunghissimo. Allora, una mia amica dolcissima, la conoscete tutti sicuramente su Instagram, lei ha un profilo che si chiama Janas Deco, adesso il suo profilo è diventato, cioè ce ne ha un altro, che si chiama Batticuore, fa dei costumi bellissimi, quest'estate li avete visti anche sul mio profilo, perché anche quest'estate mi ha regalato due costumi fotonici veramente bellissimi. Adesso dai costumi da bagno ha pensato di realizzare anche l'intimo e appunto come regalo di compleanno mi ha fatto questo completo bellissimo. Allora, ok che non dovrei far vedere l'intimo su Instagram, cioè su Instagram, su YouTube, però vabbè non è indossato dai. Allora, la sua collezione è tutta così in velluto, pazzesca, cioè l'amo da matti. Non le ho ancora usate perché appunto ci tenevo a farvele vedere prima. Se non sbaglio ha la colorazione rosa cipria, così ciclamino e anche azzurra, che è bellissima. Allora, c'è questo reggiseno così imbottito, cioè non è imbottito, con la coppa rigida, senza imbottitura, che sono i miei reggiseni preferiti. Poi sotto abbiamo la scelta o il perizoma con il retro così trasparente, che è super sexy. Come diceva mio nonno, sexy. E poi questa culottina pazzesca, guardate che bella. No vabbè, cioè io già mi immagino andare alla ananna così, cioè con tutti e tre insieme. Mister G, stai attento perché mi sa che il regalo non era per me, ma era per te, però vabbè, accetto, mi va bene anche questo. Poi, un'altra mia amica mi ha regalato questo maglioncino bellissimo! Allora, l'azienda non la conosco, si chiama History, qualcuno la conosce? Io non la conosco e fa questi cashmere bellissimi, molto particolari. Allora, io sono allergica alla lana, quindi non posso mettere la lana e anche alcuni cashmere non li sopporto. Però questo qua invece è morbidissimo e mi piacciono non i classici cashmere, quelli della nonna, quelli a quadrettoni oppure quelli tinturita, mi piacciono quelli particolari. Quindi lei ha trovato questo cashmere così blu con la riga rossa, sia sulla manica che sul fondo, eccetera, con questo stemma molto Harley e niente, ha detto, Gabri, su questo maglioncino c'era il tuo nome e quindi te l'ho regalato. Niente, grazie, 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 l'ho già messo ovviamente, questo qui sì, potevo metterlo. Poi, un'altra mia amica dolcissima che si chiama Federica, vabbè, la conoscete tutti, Sweet as a Candy, lei ha un suo shop online e ha delle cose bellissime, a parte c'è questo packaging curatissimo, ecco, cioè guardate come vengono appunto dati i suoi prodotti e mi ha regalato un maglioncino bellissimo! Ecco, tutti i maglioncini, infatti io d'inverno uso i maglioncini o sintetici o puro cashmere, perché sennò appunto sono allergica e lei mi ha regalato questo maglioncino morbidissimo, super sparaflesciato, così sparaflesciato che non riesco neanche a farvelo vedere, morbidissimo, c'è una morbidezza incredibile, niente, mi sa che non si riesce proprio a vedere da quanto è sparaflesciato, con il collo morbido, così a ciambella, niente, bellissimo. Poi, vabbè, me lo vedrete indossare sicuramente, questo non l'ho voluto indossare perché aspettavo proprio di farvelo vedere in un video. Vediamo adesso nel montaggio se si vede o no, perché così io sto guardando dal monitor e non si vede niente, però è bellissimo, grazie Fede, grazie mille! Allora, un'altra mia amica di Instagram mi ha inviato un regalo, anche questo è veramente bellissimo, ecco, come vi dico ogni anno, questi sono i regali fatti con il cuore, perché sono regali pensati proprio per me. Non sono persone che dicono vabbè, devo farle qualcosa, non le faccio qualcosa, così a caso, però tutte, proprio, tutti i regali, dal più piccolo al più importante, hanno proprio il mio nome scritto sopra. Ecco, questa cosa qua mi piace perché sono i regali veramente fatti con il cuore. Lei si chiama Yaya Maghetta, la conoscete tutti, mi ha regalato questa candela di fornasetti, che però io non apro, scoprirete presto perché non l'apro, non l'apro, però vabbè, grazie mille Yaya, grazie mille Maghetta, grazie mille Koi, siete stupendi! E niente, una candela di fornasetti, mi è sempre piaciuta, non l'ho mai presa, e sono felice che sia stata tu la prima persona appunto che me l'ha regalata, quindi a casa mia ci sarà anche un pezzettino di te, io sono felicissima. Poi, una cosa fotonica, lui, dopo il Dyson Airwrap, mi mancava solamente questo, il Dyson Supersonic. È veramente supersonico? Sì! Fa veramente qualcosa che gli altri non fanno? Sì! Secondo me, Dyson è quella marca che, fino a che non si prova, non si capisce. Cioè, uno magari dice, no, vabbè, ma è uguale a quello che io ho a casa, ecco. Dimenticati, io ho l'aspirapolvere che ho comprato, penso all'anno scorso, il V8, quando poi avete quello, capite, il Dyson Airwrap. Dite, ah sì, mamma, ecco, lo provate e dite, ok. Questo l'ho provato la prima volta e dite, ok. Ho capito perché sono prodotti così famosi e perché tutte impazziscono e perché tutti lo vogliono. Quindi, grazie mille, Dyson, per questo regalo di compleanno. Ho apprezzato tantissimo e anche i miei capelli sono super felici. Sia di questo che del Airwrap, quindi grazie, grazie, grazie. Poi, un altro regalo. Sì, sono entrata in fissa con Fendi, sì. Sì, sì, sì. Niente, quest'anno tutto Fendi. Vedrete anche nel video dello shopping tutto Fendi. Niente, questo... Bellissimo, sono bellissimi, sono bellissimi. Cosa ci sarà in questa scatolina? C'è un paio di orecchini! Allora, la particolarità di questi orecchini di Fendi è che uno è color oro giallo e invece uno è color oro bianco, cioè argento. Uno ha le F così dall'alto e uno ha le F così dal basso, perché teoricamente dovrebbe essere così. Ecco, questo qua con il logo Fendi. Bellissimo, mi piace l'idea di un orecchio oro, un orecchio argento. Io non amo i mix di materiali, cioè di metalli, però non so perché questi qua mi sono piaciuti tantissimo. E ci sono sia così appunto tutti di metallo, o se no col rosso, col marrone, col nero, forse anche col giallo. Niente, sono fotonici. Poi, la mia amica Giada, grazie, 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 mi ha regalato questi orecchini bellissimi che tra l'altro ho messo proprio il giorno del mio compleanno. La sera del mio compleanno perché avevo una felpa nera e gialla e quindi erano perfetti, ci sembravano veramente fatti apposta. Sono questi orecchini di Miu Miu, bellissimi. Gialli e verdi, che sono appunto i colori che vanno adesso, come il maglioncino vero. Ecco, starebbe benissimo col maglioncino della Fede. Gialli e verdi, così, con la bandierina, li trovo bellissimi. Anche questi qua, uno da una parte, uno dall'altra, oppure si possono incrociare. Belli. Questi qua non hanno il buco, ma hanno la clip, quindi anche per voi che magari non avete il buco, ecco, questi qua di Miu Miu hanno la clip. Anche quelli di Prada, io ne ho comprato un paio di Prada, anche quelli lì avevano la clip. Abbiamo finito i regali di compleanno? Sì, ma oggi sono stata velocissima. Allora, devo ritirarne ancora due che sicuramente metterò dentro i regali di Natale, lo so già. Poi passiamo al super, super regalone! Regalonissimo! Allora, siete pronte? Lo sapete, io ho un po' di scarpe Louboutin, quindi ovviamente non vado più sul classico, ma ormai spazio nelle scarpe un po' particolari. E quindi, niente, questa è una scarpa un po' particolare, però mi è piaciuta tantissimo ed è bellissima. Oh! State pronte? Oh! No, vabbè, ma quanto sei bella! Ecco, allora, o l'amate o la odiate, è uno stivaletto, tacco blu viola, qui è tutta bordata di fucsia, guardate che bella, ed è tutta ricamata appunto su questa retina color carne, con tutti i fiori, anche questa col verde. Cioè, questo bagnoncino sta bene con tutto, fede, cioè, parliamone, guardate che bella, niente, io me ne sono fondamentalmente innamorata, e ormai, niente, in questo momento è la mia scarpa preferita, quindi grazie, 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 mister G, ho scelto benissimo il mio regalo di compleanno, ti ringrazio tantissimo, grazie! Grazie, 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 grazie!